Si è celebrato questa mattina il 145esimo anniversario della fondazione del corpo di polizia locale del comune di Pordenone. Il comandante dottor Arrigo Buranel, aprendo la cerimonia, ha messo in evidenza le molteplici funzioni del personale del corpo, sottolineando la professionalità con cui operano a favore della collettività. Sono 145 anni di storia del nostro corpo, nella nostra città, in cui dalle vecchie guardie comunali agli attuali agenti di polizia locale ci stiamo impegnando in maniera forte per la sicurezza dei nostri concittadini. Questo vuol dire capacità, vuol dire addestramento, vuol dire formazione, vuol dire entusiasmo, vuol dire passione. È quello che noi cerchiamo di fare ogni giorno. Alla cerimonia era presente il sindaco di Roveredo in Piano, Mara Giacomini, ed il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani. Il corpo della polizia locale di Pordenone ha grandi professionalità. Ci sono alcune criticità che dovremmo risolvere, penso ad una nuova sede più funzionale e operativa per consentire le risposte migliori ai nostri cittadini. Quello di aumentare la dotazione organica, il personale è poco, ad un'età media molto alta, ma anche quello di sostituire alcune figure attraverso personale non di polizia, quindi amministrativa negli uffici, liberare risorse per il nostro territorio. Oggi la sicurezza è un tema molto sentito nella nostra città, reale e percepita che sia, cambia il modo di vivere la città. Noi vogliamo fare in modo che la professionalità, la competenza della nostra polizia locale venga messa a disposizione in maniera ancora migliore a favore di Pordenone.